Ho sempre sperato che gli spettatori uscendo dalle sale cinematografiche dopo aver visto questo film sarebbero potute uscire con un sorriso. Forse nel mio parere in Corea in questi ultimi anni hanno fatto dei film comici ma diciamo che una comicità un po' anche forzata quindi questo non ha accontentato il pubblico coreano. Infatti noi non abbiamo cercato di far ridere per forza gli spettatori però alcune cose alcuni elementi ben combinati tra di loro che hanno portato questo grande successo. Una volta si girava la voce in Corea che questo film è una specie di virus Happy Virus che comunque rende felici le persone quindi anche per quello la gente tramite passaparola insomma sono andate a vedere. Spero che questo Happy Virus possa dispargere in tutto il territorio italiano. Grazie mille. Grazie mille. A vere something. Grazie a tutti